Italia-Francia sui calci di rigore PES 2009 produttore RAPEB ecco qui ecco Henry gol di Henry 1-1 Cassano su rigore ecco Cassano rete c'è un è benzema gol parte per rotta per rotta rete per rotta rete per rotta ma lo dà è riuscita in sacca sol 3 a 3 la pressione è davvero difficile da sostenere io ho paura per ora segnali Italia Gattuso parte Henry e Ribery gol gol pillo 21 sul dischetto se la segna se la segna va sul dischetto pillo si ti muo vai guaggia dei rossi e se segna la Francia vinto parte Toulan e vince la Francia Grazie mille.